eh quanto è lungo il caricamento ammanaggia la fastweb pure io ho perso la connessione per 5 minuti ah che, certo sta caricando qua non vuole che c'è poca connessione oggi, boh stanno ah da qua mi fa prendiamo in mezzo e andiamo dove stiamo andando stanno andando qua oh voglio mettere il segno mi fa mettere oh finalmente ah allora andiamo ah è vero la missione di notte do fare, ti ricordi? dov'è il cimitero? era questo? non mi ricordo più mi è venuto in mente adesso, anche ho visto che di notte noop, due che è? no no no, non c'è boh quella lì è santa mare il cimitero, giusto? vediamo ah ci siete? eh non posso, aspetta ah non posso mettermi in pausa eh perché sul disco, non posso andare sul disco, solo mi si imballe il pc ah che? vieni a cercare ah ma sei qualche all'amato? eh? ah no non penso che 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 non ci metterò, dire ah sì, ci sono chiusi a cercare il disco, ok Perché sparano questi? Ah, stai sparando te adesso Eh, ma qua è il cimitero Ah, ma qua è il cimitero Ah, mi si... mi si larga Ok Ah, di, 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 vedo, vedo Che devo fà? Ah, ma qua è il cimitero Ho capito E mo' dove? C'era qua? Qua non c'è niente, vedi qualcosa, no? Mi indica le tombe, praticamente Allora, da lì a lì, poi Eh, do' cercare il... no, non devo uscire Do' cercare le tombe che si illuminano Ho sentito un umore Da qua è riuscita È un casino Sta missione Aspetta Ah, oh, qua Do' camminare Ah, oh, là Do' cercare le tombe che si illuminano Cioè, non andare sulle tombe Poi... Uh, di qua Poi? Dimmi Ah, no, no, no! Ho visto Ho visto? Ma qua non c'è niente Nessun può fare niente qua C'è una musica però Qua? Questa non si apre Dove? Dove? Uh, qua Esca, c'è il tasto azione Per vedere se fa qualcosa Non fa niente Ah, di qua Mi fa... Dove? Dove? Ah, là sopra Eh, non si capisce Eh, sono qua Puoi fare niente Adesso Ah, di là Ah, mi sono incastato Eh, ho visto, ho visto Ah, ha preso fuoco Poi l'ho andato via Non è che se bisogna sparare Mmm Perché guti da fare il giro È un mistero Se tombe Dove? 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 Andiamo a prendiamo fuoco a cimicero Buh Scusa, qua dentro non c'è niente Ah, mi si è bloccato ancora Mi si è bloccato Ah, adesso va Ok Buh Eh, si capisce Mo' piove Ah, no No, ho sbagliato Mi scusa Ho detto fuoco Ah, si è fatto niente Ah, mi sono incastato Fa che... Buh Che salti hai fatto? Dove è che si sta Uno sulla tomba Mmm Forse ho capito O è stare sulla tomba Quanto appare La roba Questo qua Di scegliere una tomba giusta Vieni che fa il giro Secondo me fa il giro E bisogna Ambiccare l'anima Di moltacce suoi Come sto Sulla tomba Perché fa il giro Mi sembra Eccolo Poi non puoi fare niente O devi cercare La tomba giusta Quanto arriva La cosa blu Mo' mi sposto qua Quanto famoso Dove per fare il giro Vediamo Che la luce Fa sempre il giro Puoi fare A beccare il fantasma Però Volela Vediamo Mi sto aspettando Che arriva qua Non viene più da me Va lì Poi va qua Non viene qua Eh no Non viene più da tuo sogno Qua non puoi fare niente Adesso ho visto che fa il giro qua Boh Ma è un mistero Boh Eh si è illuminato Ah è stato fun Vedi che sta Non si può fare niente Dove è che appaliva No la Appaliva lì Sta diventando Si mi chiedo Mi sento a mano Boh È un mistero Que Ah scusa Stavo piccando Un minuto qua Qua c'è un foglio Ah no Non è un foglio Sembra che c'è Vuoi salire lì Boh Eh Eh voglio andare là Non è andato via Perché non ti fai C'è da agire Non fai niente Boh Cosa è successo? Ah Ah qua non ci sono andato Ah si te C'è un'aura misteriosa Intorno a te Però Un'aura potentissimo Non si capisce Guarda Dove è leggere Su google Per la prossima volta Come si fa No non vuoi salire No non vuoi salire sopra Perché sta diventando Giorno Tampoco diventa Giorno Chi parla? Che dice Mierda Però cambia sempre Poi cambia sempre posizione C'è gente che sta combattendo Eh si cambia sempre posizione Dove seguire le cose Secondo me Quello che sto facendo Quello che sto facendo È nevato un tizio qua Che vuoi? Boh Ok da avere un oggetto Due Ok Eh no E muo'è là? Ma io seguo Ma questa tomba qua Non c'è niente Boh Si capisce Eh non si Non si la fa Eh si Andiamo via Boh Boh È misteriosa Dove leggere su google C'è trovo qualche Qualcuno Qualcosa Chiamo la macchina E' vero Oh oh Non scendi Guarda fa la missione Boh Cambia posto Sono in macchina io eh E' vero Ah bollone Adés Qualcuno Capone che cavolo tira tutto solo ah sono arrivato ah trovate come si faceva entrare alla base? ah di qua forse non mi ricordo dove era ah si di qua dove era? ah non mi ricordo mai ma in questa zona? ahi ora ah eccola qua trovata tentata levati ok trovata ma parla con quei? ok salve mi da un po' che dice i need you to go to the Grand Hotel Caballero il pigioniero questo significa che ha un'appointmento con il dentista il migliore interrogatore del regime se il dentista ottenga nessuna informazione siamo f***** ha un buon cervello ma il hugo sarà f***** come un f***** tu devi stopper la interrogazione qualsiasi che prende ah lo fermano i refrigeratori ok ok servizio in camera si chiama si chiama si chiama ah non and- ah ma in vicina ok usciamo si sto andando a- c'è un fulgone che parte alla zona di carico se vuoi un passaggio ok ah 80 metri ok ok ma che che dice la colli colli so' confuso dov'è Ah, 40 metri 20 metri Ah, è questo il fulcone Non mi fa salire Mi sei bagato Perché non mi fa salire? Mi sei bagato Niente Ah, forse sto dietro Ah, qua Hola C'è facendo Ecco Lo so di dietro Ah, stai sparando il teatro Non è che gli dai fuoco No, il camion sta prendendo fuoco Merda Ops, niente Ha preso fuoco tutto Lol Scusate Eh, però ho capito cosa che devo fare Mannaggia Eh, non potremmo anche uscire perché ha chiuso il portone dietro Ah, praticamente lo sto lì nascosto Ok Ci ho condannato Non potremmo anche uscire Lol Ammo sta caricando Ah, di nuovo Raggiungi Ah, che Non capisco dove sono Ok Dove è l'uscita? Di qua Andiamo ad andare là Con sempre col cagno Non fa di niente De sparare Ah, esco così caricato Ah, che Ha 80 metri Ah, mi sono incastato Adesso posso andare sul disco Develo Allora, devo fare così Guarda Non mettermi Così dice Modalità finestra Non mi viene in mente come si diceva Così E sta caricando Ah, è sbagliato Diffiuta la che Beh, basta che non faccio Poi Poi cambio scena E vado su Cisco Eh, vedi Così riesco a cambiare scena Se metto in finestra Alì io Tanto che apri il Discord Ah no, lo cambia ancora Aspetta Aspetta che apri il Discord Perchè c'è un puntino Su Sulle Ubi Sotto Connect Vabbè Vabbè No, non do Che cari dice Vabbè Lasciamo perdere Non si apre il Discord Vabbè Proseguiamo Non si apre la cambio scena Schermo intero Appica Continuiamo Beh, non si apre il Discord Allora, non andate lì Ah, c'è la zipline Tranquillo, tanto mi dice Che non si sta più Stando Ah, maledetta Ubi Sto Ah, ok Ah, il camere è questo Stai facendo questa missione? Eh, sì Mi odio questo Mi anche Dice Dice Quando sei in la città Tu non ti dimenticare Informazione O la vita O la bambina E io Devo trovare a l'ho A presto Sì Scutti già in posizione E pronti per aiutare Sì 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 Tu hai ascoltato a Elena Prima C'è la voce 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 Sì, sai? Siamo venire questo. Te lo prometto. Esco da gioco e non mi fa intaglia, eh, che cavolo. In realtà il disco si è aperto perché... Ah, posso metterlo in pausa? Sì. Lo cambia sempre finestra. Opzioni, video, finestra. Ok, vedi che va meglio così. Oh. Si è aperto il Discord. Ah, allora. Ma non mi fa interagire, però. Oh, guardo sul Live1, ecco. Sono riuscito a entrare. Ah, sei in Live2 e te. Ops. Eccomi, si sente? Sì, sì. Ok, sì, sì. Oh, schermo intero. Perché se ne metto in finestra mi fa... Ok, ce l'ho fatta. Oh, adesso continuiamo la missione. Sì, però non lo sai qual'è? Sì. Che adesso ti dice che non stai ostando che non posso cercare la tua... Ah, ah, perché... Boh. Boh, si vede che non finisce la missione. Sì. Sì. Poi si riblocca. Io nel frattempo riavvio UbiBug. Alle volte Ubi sono detto che sarà bugato. Sì. 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 Scusa per prima se ti ho fatto esplodere No, no, è niente Ci hanno chiuso dentro Uso i clandestini Che vanno dal Messico in America Si, ci hanno chiuso dentro Ah, ma gli altri giocano a Minecraft Si, a te ne sono già da Minecraft Ho visto che c'è la gente sotto Si, sono in salto Si No, è nel salto di isca E a me mi metto se mi fanno un po' L'altro dopo il cazzo li vado a raggiungere Si Allora, andate che sono quasi arrivati 100 metri Sempre se Ubi Baccio mi fa giocare Si Pinga Ah, non vuoi scendere Che devo fare? Allora, devo andare Ferma L'intero reattorio Ok Ci hanno detto di cose che devo fare Eh Eh, tu sali qua? No Vuoi salire sopra il tetto Ah, dice un nemico Ah, allora Castillo è troppo fissato i denti Ah, ma ha detto Perché c'è un punto escamativo? Uh, quanti nemici Ah, il punto escamativo è l'ostaggio Adesso ho capito Oh, cazzo Eh, ma l'ho visto Ah, la morale, la morale Ah, abitivo è compitato Libera Mi ha dato fuoco alla morale La dentista L'ho ammazzata Ma questo è mezzo nudo Se ne va in giro Eh, sì Compito di vergogne Compito di vergogne E qua mi sparano tutti Tutti quanti Vedo come ne vado Che devo fare? Non lasciare i testi di Mauri Ando a ammazzare tutti Me ne fa entrare, compaio Eh, guarda che camuglia Non capisco che ti dice Che non stai più costante Boh Che ti sei sballato? Niente, ti guardo dalla live Che dopo Ah, che Spinga Ci sono ancora i miei amici Dove sono Questo è mio Ah, ecco Grande o l'uso Sì, ma ti È una certissima Insomma, fa tutto l'uso Ah, fa tutto lui Grande o l'uso La massa di un botto Sì Una massa di minimo quattro Come here Il chique Ah, salve Il tigolo Ah, come si dice Le risade sono per i vivi. Ah ok. Conflicto? È un'usuale business. Guarda, a risposta di tutti i rumori, non c'è una guerra. Almeno non c'è una guerra. Questo non è una guerra. I criminali di la libertà non potrebbero perdere. Sì, siamo moni. Sì, libertà? Questo significa un uccardo. Significa un'usuale. E cosa per la guerra violenta? Non è la morale. Qualcuno che attacca l'arra militare o un'interesse di business non è un vero Yaran. La mia strategia... E ho avuto con la strategia. Ho avuto decenni di esperienza. L'arra di sicurezza. L'arra è sicuro. Certo? No prea coppia, fornata. È un'esuale, devo andare. Presidente, Certo? L'arra di sicure, se sulpirebbe. Chi va darei? Esticarebbe così. L'arra di come è che una gruppo di scolio casa in L'espa, questo corso arrivale si otobili più alti numero di attività? L'arra di suporti? Oh cazzo! Grazie signor Presidente. Si, è leggermente incalchieto. Si. Higher! I won them higher! Anche lei è cagata addosso, però hai visto? Si. Io direi a quale di scappare in Messico con la tizia lì. No, no. Vabbè, madame è morta lo stesso. Eh. O l'ammazza Cassigliano, ammazzano i dissidenti, sempre morti. Eh, si. Allora, avviso su altrimenti i nostri camminati assurdi ci sono dati da fare. Yara vorrà purificare i dissidenti di Yeti. Aspettate da arrivare. Ah, ma questo l'ho già letto. E lei mi dice sempre di... Vabbè, parliamo con la tizia, ma. Ok. Boh. E come mai? Eh, boh. Nelle impostazioni devi vedere. Eh, vediamo. Ma prima è iniziatto, boh. Eh, vedi nelle impostazioni. Eh, sto posizionando... Opzioni, se giusto. Magari hai cambiato qualcosa, ma hai cambiato le cose dell'audio. Ah, che? Gioco. Accessibilità. Accessibilità, ti si. No, qua non è tutta la guà. Eh, eh, eh. Dio, niente. Dio, colori. No, 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 no. Gioco, forse. Cop. Aperto le amici, sì. Giusto, eh. Aperto le amici, eh. Noi, aspetta, faccio così. Mmm. Aperto le amici, giusto? Sì, giusto. Boh? Ho provato di invitarmi, mi inviti? Ah, sì, vedo. Certo? Giusto. Non ci avevo pensato. Allora che le invito, non mi ricordo mai. Ah, qua, sì, giusto. Ah. Ah. Ah, che sta caricando. Ehm. Aspetta, uso il mouse che, ecco. Sto giocando, assente. Eh. Quero assente. Ma non è il mio problema, aspettate Si Ma che significa assente? Ma assente è il tuo cervello E' infelite Come si fa a cambiare quella? Vediamo adesso No Eh forse per quello Bu E si intanto continua Ah Capito Ok Ok forse ho capito Ho chiuso Ubisoft con l'app Ah Quindi se non si chiude l'app Non ti tolgo Sia l'app che il gioco è aperto Ah Sto caricando l'app Ah per quello allora Non lo sapevo io Lol Si scoprono cose nuove Eh vabbè allora devo uscire dal gioco e farò ripartire con l'app aperta ma porca due Eh in quanto continuano ho capito Ma dovevo questa cosa io tu? Anche io non lo sapevo Anche io non lo sapevo A me l'app si apre un automatico con troppo il gioco No io l'avevo chiusa dopo che ho aperto il gioco Ok Papà mia vabbè mentre vado in mano ne approfitto Sì Tra due minuti torno Sì Allora per quello capito 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 Qua c'è una cassa mi dice ma c'è una cassa sempre buggata Nesse le soffa Non penso che sia sul portetto Vabbè lasciamo prendere Tanto le casse mai Non mi servono più Allora che devo fare è vero? Allora operazioni C'è quella del tigre Ok Anche qua che non funziona Il telepolto Andiamo lì Mi butto la pa Ah Juhuu 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 Ui che volo Chiamiamo in mezzo Ahi l'ora Ah è arrivato in mezzo Ah è vero prendo le munizioni Palla col tigre Andiamo Dopo A me Qua Andiamo Ahi l'ora Ok c'è lì Ahi l'ora Vediamo Ah si è arrivato Adesso ti faccio partire il gioco Si Tanto sono arrivato Maledetto Ubisoft C'è l'Ubisoft connect collegato alla app Non è per separato per i fatti sui Ok Ah Buh Vediamo se Veramente questo Il problema viene da rito Vediamo Ma dove è l'ora Non trovo mai su questo luogo Ah ecco qua Sto fatto Sto dicendo cosa sta dicendo Quello Ok Benitez Incantatissima Per loro che è rubato Sto all'anno addosso No Eh Ha smesso Ecco Sono arrivato dal No Voi sapere la sprazione, due bambini con una stona? Beh, Carlito ha fatto un po' di due bambini con una bambina. Un'azienda nazionale. Questo era prima che si è ritorno e si fanno lavorare nel museo. Il regime lo ha posato in una scuola per essere insultato per farmi i turisti reali. Il suo vero destino è nel campo di battaglia. Vi troverò a te nel museo. Inoltre ci saranno liberare Carlito da sua presa. Niente, mi risulta che tu non sei in sessione, ma perché? Eh, perché? Boh! Prova di nuovo ad invitarmi tu quando hai finito. Si! Se mi fa muovere il coso, il cursone, ecco. Non ho capito che... Boh! E adesso lo lascio perdere. Eh, adesso, si, finisce qua la cazzina qua, parla del tuo tizio. Ha parlato, si. Vediamo. No, il sistema è qua. Beh, ti da sempre assente, perché? Ho visto una cosa, aspetta. Perché controllo... Applica. C'era un puntino sul coso di Ubisoft Connect prima. Adesso non c'è più. Postazione, vediamo. Qua è tutto a posto, non so. Sì, sì, il problema sarà mio a sto punto. Ma non capisco perché, capito? Ah, bu? Siamo intero. Siamo intero. Come hai visto che sei tutto online? Da dove si capisce? Ah, qua... è vero che... Aspetta, provo a vedere anch'io, da dove... Non ho mai cambiato la cosa online. Appena... E te come hai fatto a cambiare? Te l'aveva messo così lì. Posso partecipare quando sei disponibile a una sessione? A me mi dici che tu non sei... A me mi dici che sei assente tu. A te dici che sono assente io. No! Aspetta. Perché dici che sei assente tu? Che... Vediamo. Ehm... Un po' filo. Aspetta, che qua... Ho paura che ci sono cose che... Aspetta, eh. Cose che non si possono vedere. Ah, che? Sì. Allora, aspetta che cambio scena. Allora... Si. E carichiamo... Due... Due sessioni. E poi provo ad unirmi. Magari è quello. Ah, torna... Ah, tornammi in principale, si. E poi fai carica partita? Si. Magari è per quello. Io lo sto facendo pure, eh? Si. No, 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 tu stai giocando. Ti vedo giocare come fai ad essere assente. Eh si, infatti. Boh. Ecco a te è assente poi. Boh. Si vede che non abbiamo... Che non siamo andati in classe. Stiamo... Stiamo marinando. La mano c'è la... Non c'è la... Non c'è la... Vabbè. La capita adesso. Nagio. Ti potei caricare ogni volta oggi. Si. Ah, continua. Devo fare. No, no, eh... Si, Vandino. Ma tu non c'hai la carica salvataggio? No, no. Ne è uno solo salvataggio, forse. Si. Ah, ho messo in finestra. L'ho lasciato in finestra. Vabbè. Allora lì se lascio in finestra non mi lagga. Almeno posso fare un esperimento. e più volte che giocavamo, eh sì, la cosa, Assassin's Creed Valhalla lasciavo in finestra e mi laggava, poi l'hanno sistemato con qualche patch e non laggava più se la mettevi in schermo intero vediamo un po' ha fatto, deve uscire un aggiornamento su Assassin's Creed Valhalla che ti preoccupa il gioco ma in memoria hanno detto, sull'aldics se faccio così spadisce la cosa ho fatto una cavolata ah, sì, cosa devo fare? mi ricordo più ah, giusto vediamo ah, forse adesso si sei dovevamo caricare tutte e due sì, però non ci posso invitare ah, vengo io perchè vedo che sei verde vuol dire che prima se ci siamo vengo io e non mi posso dire, ma va, va, morimmo al serio aspetta, provo, provo perchè ti vedo verde, prima è scritta la blu eh, perchè sono online io anche io ti vedo verde adesso non è più sì eh, però non ti fa invitare inizia profilo eh, magari da qua posto no niente 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 eh, niente eh, niente, lascia stare eh cerco un compagno niente e cos'è cerco un compagno ah, no, ho capito ti mette l'ultima volta niente niente lascia vedere Paolo si Paolo, eh, adesso in finestra vediamo cosa succede grazie 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 buona buona merenda ecco, venire che mi siamo portati i checchersi del mio papà allora dunque trovo il museo della fazze di evoluzioni mmm che è qua perciò posso andare qua vediamo se è più veloce così il gioco mmm vediamo boh fra un io gioco mentre fra in casa fa 10 minuti ci proviamo in casa dai chi? mmm 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 ah qua c'è anche le ricotte, è benissimo dove è? è qua che vuoi te? guarda niente che vuoi te? guarda niente ehi prendo l'elicottero che gioco te? stai usando con il secondo salvataggio di questo così non vado avanti con la storia che devo buttarla in live perché non vado a finire ah tu? il secondo salvataggio è al venti per cento che all'inizio sempre qua sto giocando ah ok se se ho capito mmm mmm libera calito si trova nel museo della falsa rivoluzione io non dico mai quella roba di sopra eh falsa rivoluzione? mmm aaaah capito mmm si vado dal tetto mmm metti via l'alma e iniziai come un turista coño coño perché si è fatto male? salve eh non è giusto eh veramente non è giusto non è né giustizia eh di chi si uccide da quello? eh 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 c'è un'alarme sento tumori dove? eh ah ah c'è qualche soldato? no disattivo ah iron ora sai perché non l'altra così in finestra ecco un'alarme di masco mmm c'è ancora un'alarme cosa è successo? cosa è successo? mi si è bloccato mi si è buggato oh oh devo prendere il calamato? c'è un'alarme di masco c'è un'alarme di masco e come è fatto accadere così? devo prendere il calamato maia conno Non riparare il calamato Non salire capito sul calamato Benissimo E' fatto fuori Sì, ma non mi va il calamato Vai Ah, ecco E' divertente Dove devo andare Ah, ok E' fatto fuori Quella missione Andare in qualche parte Dove sto guardando, ah, sto guardando la mappa Dove devo andare in punto di tiro, ho capito Dove è in punto di tiro, punto di tiro Per forza qua in montagna c'è Eh, che cavolo Chi è? Dove devo andare in punto di tiro Dove è arrivare a carico o la goccia Tutti in cielo Madonna, mi sto sparando tutti quanti qua Non faccio fatica a guidare il calamato Mi fa male il ginocchio NonCE Inci ilz o il ginocchio Inci il ginocchio e che cavolo poi voglio invitarti dice come se tu dovresti riavviare il gioco ma è assurdo assurdo perché dovresti riavviare non ho capito non mi fanno anche guarda le missioni c'è qualche cosa che non va nel gioco anche a me mi ha detto c'è qualche cosa che non vuoi la tua sessione è bloccata la tua sessione è bloccata mi fa andare nella mappa vero e allora sei tu veramente ma che cavolo vengono a fare gli espostamenti rapidi vero qui ci sono No, perché sono uscito Sono morto Ah, riparo intanto In tutto il mare o in per nuocere? Ah, già riparato, ok Non è che non dare 70 metri, 10, 20 metri Devo fare il calito e la gotta tutto intero Eh, non riesco a curvare Aspetta, eh Io l'ho fatta con la missione Io l'ho fatta con la droga Di qua? Sì, stai passando in metà all'acqua C'è un punto dove potevi passare in metà all'acqua Perché arriva alla droga Ah, di qua Piano 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 Ma, sì, stai passando in metà all'acqua Ah, sì, stai passando in metà avanti Non ci fai fare No, perché io l'ho fatta Un fatto di frappare la prova D'uomo togli il civile possibile Cosa vuole succedere O? Praticamente ti fa perdere le missioni Oh? Ah Sto facendo una missione, non c'è troppi civili e ti dice che la missione è finita. Ok. Eh si. Ti fa prendere la missione. Ando a passare di qua. Che bozzello questa missione. E fa dire le cose che dicono. Che è rimasto in mano non lo aveva minacciato. Oye il tigre! Carlito è molto vecchio e prende una vita. E' un po' che non lo faccia? Tormento è il primo che fa la killing, baby tigre. E' un po' che sta scappando. E' un po' che sta scappando. Continua. Siamo quasi al caffè. Va a essere a dire. E' un po' che è il mio nuovo membro leggero. Io perché lo stesso f identity. Ok. Ce l'ho detto. Vi facevoไ contraste, e di fatto dieci. NoNoNoNoNoNoNoNoNoN PER profesione dei tuoi rimasto di Eddie Ammanismi ben Durante. Beh, Domenico, quel bel 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 espo. Eh, il parcheggio perfetto Eh, questo è un'eferba che laga di meno però, eh, comunque, in finestra E guarda te In finestra, lei, comunque, non è risolto Oh, ok Quando ti lagano i giochi, se li metti in finestra, è meglio, capito? Sì Ma alla fine cambia poco, là, come spessore Sì, sì Sì, che ti cambii poi più di tanto Sì 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 Quanti anni hai avuto la monta? Molto Carlito e io, abbiamo molti ricordi di ricordi Ora facciamo qualche nuova Sì 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 Ci salda adesso Sì 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 Allerò Sì 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 Ehm, 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 come on, come on, it's gonna be good, mamma, come on, come on. Questo è già adesso? Ehm. Ah, missing computer. Ehm. Ehm, ehm. La guerra è finita quando siamo tutti... ...danno quando hai iniziato a quotare Lovo? Quando mi trovo di chiacchierò la mia proposta? Ehm, va bene... Ehm, ehm, ehm... Ehm, 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 ehm... Ehm, a quale istante si parla tra di loro? Ehm? Perchè, non capisco cosa dico. Vabbè. Ehm, leggi, c'è un documento. Dov'è, dov'è? Sì, sì, sì. Cosa è qua, eh? Ma i grecchi, i grecchi sono secchi, dovrebbero un goccio d'acqua. Ehm. 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 Se volete tornare indietro a tempo uccide qualche soldato? Ehm, consiglio di visitare il parco delle strade alla pietra. Ehm, questo l'ho già fatto. Ehm, mi dà anche missioni secondari qua dentro. Poi l'ho già fatta questa. Ehm. 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 28 ottobre, 1177. Oggi l'ultima ma ma c'è uno schiaffo forte ma persino scheggiato un dente. Aspetta che... Un attimo. Ehm. 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 Ma la mia canna per nu spouse i colpo. Del resto del mio sangue era calda come la canna della pistola. Ma per te? I mai impossibile questa cosa... e che era? Lukki si sbaglia! Quei prigionieri hanno avuto quello che meritavano. L'ho visto troppo! e avresto detto avrebbero detto l'esercito ritrovarci non ha avuto scelta voi potrà lasciare vivere ducchi non capisce il fatto che forse l'armati non rendeva meno pericolosi continua a toccarmi la lingua dove è saltato un pezzo di dente era diventare soldo con lo schiaffo scusa anche tuttavia ma è assurdo però gli scipponenti con uno schiaffo e chi aveva? una palla meccanica a posto della mano a che forse è arrivato sto schiaffo? 200 km orari a che forse è arrivato? eh infatti palla con le... posso fare il teleporto? vieni un po' no perché in quella zona non posso farlo vado qua e poi mi vado col mezzo là andiamo se riesca ad entrare adesso da te? si apprezzerebbe adesso sono in una schiaffa di caricamento niente non posso entrare dice sempre che hai la sessione bloccata è come l'altra volta che aveva problemi 6 ti ricordo? si però l'altra volta quando hai riavviato il gioco siamo entrati stavolta hai riavviato il gioco e non siamo entrati ah capito è meglio stavolta ah ok non ci hai fatto caso no? eh si peggio si eh si ah ah ci possiamo fare crisi sui server si è un problema dei server allora probabile probabile eh che cambollia poi dopo eh chiamato la mia macchina alla riva ah eccola è sparì ma ma no no sono i server è sparì e l'ha sparita un attimo adesso è la parsa ok no non sono i server eh si sono i server dovresti gioca gioca la soluzione c'è ma non ti conviene ah si lo chiude il gioco e lo rapido tutto 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 non ti conviene non ti conviene il gioco sopporto si capito la soluzione è quella chiude il compagno di gioco andro a niente guido si perché perdi tempo no? bella non ti conviene che si vede 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 ma che coño aaaaaaah prendo fuoco via via scappa me lo prendo nel mezzo vabbè niente come non ho detto è durato 10 secondi il mezzo no non mi fa peggio ecco prendo questo camion è durato 10 secondi il tuo mezzo si bella la canzone che è partita questa è una bella canzone hanno aggiornato anche le canzone ah si le canzoni del gioco questa è una canzone che non era mai partita vediamo un po' vuoi che vuoi andare qua ahi l'ora ahi l'ora è partita adesso ah non mi fanno chintare no ma che ho cop vabbè ti dico che a me mi dice che non sei in niente ah no proprio sei tu adesso ah adesso spermente sei tu bloccato si è che caro quando provo ad entrare da te me lo dice ne ha capito c'è un altro mio amico che si chiama aspetta quello di qua me la legge fuoco però con no che se che lui è online funziona ok sei tu adesso ma che cavolo è che cavolo è che ho chiaramente chiudo il tutto il gioco ne ha capito ma che ti freddo si no ma si è messo davanti non uccidi di cv certo mi sarebbe piaciuto giocare la volta ma ti sto guardando dalla live si ma hai visto cosa è successo vabbè si è messo davanti a lui vabbè ma finché una non ti succede niente alla missione si se non ci ripeti uno perché ti è stata affallita ah ah si devi ricominciare fatta che non sei un missione adesso sto andando verso la missione ti riporta comunque all'inizio da dove hai iniziato anche se stai viaggiando si anche se stai solo viaggiando ti riporta al punto di controllo ok la città e quindi poi ti riporta tutta la scala eh sì eh 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 cosa cavo vabbè io sto facendo niente tutto il canno che fa eh ho messo il corso pilota sto solo accelerando eh è su tutto pulire sta facendo una strage eh no 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 ho lasciato l'accelato lì e sceleravo e basta adesso fa la curva da solo adesso arrivati possiamo scendere no così al volo vabbè ma dove è l'uso? ah mi sa che è morto prima poi si dice una missione del calamatoni vabbè ora arriva ecco nessuno muore mai realmente l'ho chiamato mi confondo sempre qua l'intrata no questa è riuscita ah no giusto giusto fanno ridere è scelto di come muoio eh dunque poi era di qua non mi ricordo mai la stata poca vacca poi di qua è di qua giusto ecco non mi ricordo grazie a te i defenzi Benitez sono scurriati all across l'estate ora è il momento perfetto per attacare le mie all'interno il problema è non sappiamo quanti soldati sono là quindi qui Ecco cosa facciamo, tu, la morale, gli anziani e quel tank Sanno tranquillamente arrivare sull'islanda Ah! Abbiamo usato quel tank rosso per incontrare le tue in una forza E poi continuiamo a scoprire fino a Benitez è morto Probabilmente ha scoperto per molti scenari di attacchi Ma sono sicuro che il tank sull'islanda non era uno di loro Scusa, ma scusa, in teoria ce l'avevo già il talamato io Che l'avevo già dubato, vabbè Rendezvous con il Tigre nel posto che ho scaricato sulla tua map Ehi, parla ancora Si sente il tuo fratello che parla, forse, credo Che si arrabbia Ah, arrabbiato Vabbè, lui sembra arrabbiato Ok Il carattere, capito? Si Non è come noi, tranquilli Non ho capito Non è come noi, non ha il suo carattere Si Che tal? Che tal? Non mi ricordo cosa significa Ah, come stai? Giusto Che tal? Mi sembra come stai? Significa, in spagnolo Che tal? Spagnolo Ah, vai niente Si, l'hanno tirato sotto un tizio con la macchina Praticamente Aspetta, scusa, devo guardare dov'è? Devo fare tutto a piedi? Eh, ci vado col teletrasporto. Di qua? Ah, vado qua, giusto. Ah, ciao Adesandro, non te ho letto, eh, voglio fare un compito informatica, in realtà, eh, eh, lo scrivo di componenti, scherzo. Ciao Ale, non stavo leggendo perché sono in game, per i fatti me ma sono in game. Eh, anche io non ho capito cosa è, che è quello. ...componenti compatibili con una scheda madre, e ci ha detto il professore, secondo te devo scrivere i nomi dei componenti presi da Amazon perché non ci sto capendo un cazzo di quello che devo scrivere. E' un bordello, eh. E io, io ne so qualcuno, ma tutti, tutti, sì è un bordello, certo, ma lui sta studiando queste cose, capito? Sì. E' un po' di tipo fa, è impegnato alla missione Calamato, non l'ho detta. Non so se c'è ancora in missione, se c'è ancora in live. Ok. Ah no, c'è ancora, c'è ancora. No, c'è ancora. Scusami, Alessandro. Eh, scusa, Alessandro, sì. Quindi, per la scheda madre, per la mia, posso metterlo anche in basso, per la scheda madre, che ci ha detto che vuole sapere qualunque le tecniche vuole un elenco dei componenti compatibili con la scheda madre. Come se dovessimo? Ah, eh, ok, sì, sì. Vabbè, scelgine una, una di quelle moderne, che ne so, tipo la AMD Ryzen, e saprai che con la AMD Ryzen, per esempio, le schede, le memorie compatibili con una AMD Ryzen sono il DDR4. Le schede video sono, le schede video sono dalla AMD Ryzen, quelle consigliate, compatibili. Prendire una moderna, così ti levi il pensiero, o no? Che ne pensi, tu qua? Eh, sì. C'è una che è facile trovare le componenti compatibili. Dopo là con un tizio. Ah, quello, un tizio. Ti vedi, è un cazzo di casino. Non è che uno si può ricotta tutte le schede madre. Eh, fa... eh. La super memoria, c'è. Ah, ci ho dato il nome di modello. Ah, che nome è il modello? Ah, quindi deve essere forza quello. Ah, ok, deve essere forza quello. Asus? Ah. Io ce l'ho, Asus. Ah, Asus. No, io ce l'ho, AMD. Asus, c'è quella. No? Ah, AMD Ryzen 9500. Ah. Asus? H? Ah, come si immagino di distruire le M3K? Ma cosa facciamo questo? Tu, figli, tu lo facciamolo. E' un sussito dell'Asus, ti dico tutto l'especibile. Prendi in questo momento. Il mondo va cambiare e diventare un sussito dell'Asus. Eh, via! Attacca! Se tu vai qui, in questo sito qua, qui, essendo quello dell'altro, ci sono 3 specifiche sicurezza quella che c'erano. Madonna, non sento più niente! Cos'è spalla? Ho diventato assoluto! Se sei lì, non sbaglio, non sbaglio. In questo sito dell'altro non sbaglio. L'amazon non te lo consiglio, è che tanto se ti vieni la strada. C'è buono per il cattallico se l'amazon, non per le specifiche tecniche, capito? Oh no, io sempre così faccio. Mi hanno messo il sito e poi le vado a comprare sull'amazon. Ok, mi devo spagare. Come fai, Paolo? Eh, si. E così si fa. Mi hanno messo il sito quello speciale. Non so se vuoi dare le mie ricerche, eh? Vi mostrerò il senso dell'amazon militare. Scorta, calito, calamato. Sì. Sono un po' fissi ora. Il sito ti dice questo quello che possono essere combattibili. E puoi andare sicuro al cento per cento, in base. Abbiamo potuto avere questa conversazione prima? Ahah! Che buon genere sta missione! Ballava invece di sparare. No. Ti metti da vedere un sito che conosco e ti dice le cose compatibili. Qua si è volcato tutto. Ah, che sta caricando. Stava caricando per qualsiasi ogni tanto. Stava caricando per qualsiasi ogni tanto. Eh, si. E invece continuano, continuano, perché così lo lascio a... Diciamo a mano, lo lascio a dare a camminare. Dai, spara, spara, calamato. Ah, ripara, posso riparare il calamato? Ah, non ce ne so. Ah, dove vai che ti sto riparando? Ah, lo devi difendere, non lo devi fare distruggere. Sì. Devi ripararlo il più possibile possibile. Sì. Ah, mi danno fuoco. Aspetta, mi danno fuoco. Ehi. E quanto ci vuole a curarsi il 105? Eh. Ad esempio, nella scheda video ho stato... Stavo a scrivere tutto per la scheda di grafica. La scheda grafica PCI Express 3.0 per il video. Ok. Ok. Beh, ti ammazzate. Vado a controllare. Vado a controllare. Vado a controllare sta cosa di DR5 che chi mi sembra... Cazzinne. No, è giusto, è giusto. Posso rischare la video, allora. Tante ne dice che è di DR4 il più forte. Ah, pro. Beh, io qua nel sito della... Nel sito di... Nella ASUS si dice di DR4 supporto, non di DR5 eh. C'è una foto a AIDS. Ora! Che devo fare? Tani! Sei da bene? Sì. Si sembra che questo piegherà è stato giusto. Quindi dovessi andare da Benitez. Cosa è Milano e da Benitez? La guerriga ha fatto l'interno! Ah, la scheda di video? Va bene! Supporta fino alla DDR5 quella scheda di video, va bene, non è un errore. La DDR5 è la scheda di video. Ma la scheda madre è un supporto con la guerriga dentro, va bene che non fai quest'errore. Che devo fare qua? Non ho capito. La scheda di video! Supporta fino alla DDR5. Sì, sì, va bene. Eccellente! Va bene, non sei giusto. Non è un errore, vuoi dire una scheda di video buona. Ma che stile grafico è? Vabbè, PCI è il PCI. Dalla 2080 in buona. Sì, sì, è giusto, è giusto. Pensavo che avessi scritto la scheda madre di DDR5. No, 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 è giusto. Trovo la miraglia, trovo la miraglia, trovo la miraglia. Non è male come scheda madre quella che si tratta. Eh, qua dentro la miraglia. Sì. Sì. Mi sa una simile a quella che sta cercando cosa. Cioè... Eh, mi sa che l'ho pagata io quella più o meno... Eh, mi sa... La mia ha le stesse prestazioni, però l'ho pagata 220. Ah, capito. Sì. Ma tu l'hai pagata la scheda madre, 220? Eh, 300 euro forse. E 220 l'ho pagata, con gli sconti dell'AMP. Ah. Mi ha dovuto cosa più sparo! Mi ha dovuto cosa più sparo! Ah, ho capito. Sì. Ma tu, che burgello! Allora la metto! Sì. 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 Ma tu, che burgello! Sì. Sì. E ma tu, che burgello! Che scappo! Qua qua c'è il veleno! Do dù ci si esce! Ah, da qua! Pogli scappa c'è il Nemezi! Andiamo a guagarmi! Stavo spavendo! La chiave ce l'ho dottore?! Ecco. E ci vuole la chiave! Il veleno come faccio a fermare il veleno! Ma io avevo visto una Sono morto Mi sa che sto morendo Non so come si fa a fermare il veleno Ah di qua Ah Ok Ah da dove si esce Prende il fiato Ah Ah capito Eh ho notato Che è un casino Io l'ho già fatto Ed è un casino Io non stai in singolo Ah è vero Il dissipatore alla fine L'importante è compatibile con il processore che metti Che processore hai messo Per esempio se metti il processore AMD te lo danno compreso il dissipatore Il processore quindi c'è un po' bisogno che lo cerchi Ah ok Non ti danno quello a liquido ma te lo danno compreso Intel Core Intel Core te lo devi andare a cercare AMD te lo danno compreso Quindi tu metti il processore AMD con il dissipatore compreso e se ne esce quel giorno C'è che il dissipatore Intel Core Devi cercare un dissipatore compatibile con Intel Core Che non è che lo fa la Intel Il dissipatore lo fa una casa a parte ed è compatibile con loro Invece la AMD se li fanno loro stessi capito Ok E' lì tutta la ruigna di Intel La minaglia è qua dentro comunque dove tolto la chiave E c'è una scala E' tanto guardo com'è sto roba Ah qua c'è la frase Ma fa niente se mi sparo O sto solo controllando Posso scappare qua Ok ho capito com'è Dove sono i mici? Ah lì Ah lì Ah lì Ah lì Ah lì Ah lì C'è scritto so che inti quinti più su umano sia Ok Eh? No sto leggendo Alessandro Cos'è? Sì sì è lui è lui Sì sì è lui è lui Ah si vede che li fanno anche i dissipatori Coglio Aiuto Poltello Ok Ok manca due due sogliate acqua aspetta dove sono gli altri due due cose l'arte manopoli e soprattutto dove è riuscita per prendere aria dicevete due le manopole riuscita per prendere aria due le manopole sono quelle gialle che girano se questa l'ho fatta l'aria è tenendo le scale prendi le scale sali e desci c'è una porta ed esci vai a respirare vai a respirare un attimo ti ripieni l'energia qui aspetta che ti risale l'energia e poi rientri ha capito cazzo ah ok giusto poi chiudi l'altra e esci prendi piatto e si quella l'ho chiusa c'è una non so poi ho capito dove sono caduto aiuto se ho capito dove l'altra si ho visto c'è una scala c'è una scala così questi quei quelli che dimorato ritori salire come si chiama quelle scale lì è appione si ecco acqua questa l'ultima non so se l'ultima non mi ricordo se erano tre o quattro se sono tre è l'ultima eh si c'è ancora il vereno se devo me ce n'è se c'è ancora che devi dicendo l'energia ah ok c'è un'altra rotella ah eccola se la indica si se c'è ancora se c'è un'altra allora devo me non uscire si no 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 è finito è finito è finito ah ok è perché sei caduto che devi verso l'energia ah ha capito si 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 è spaccato gli incinagli in cinocchi uh uh si è morto penso che si non è morto ammazzata benite se la missione dovrebbe essere finita se non ricordo quando si c'è una migliaia magari tigre sei ancora qui? si sembra di essere la morte di ogni ruolo qui allora assicurati che sei dall'altra parte di quei ruoli claro è il tigre hm ah grazie per l'aiuto che che mira dei buffi io eh eh leggi eh lo dice mister cap non so perché boh grazie per avermi affidato all'incarico di valutare il sistema di fittaggio area del forte fontana per un onore mettere le mie competenze al servizio di area per ogni modo possibile come sono? ah saremmo in un quarto guardate di fatti quindi il cap dice che mira dei buffi? si lo vogliano di f... eh 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 vogl... non lo dì io della loro arriva grazie il cap si cosa è successo? si è cacciato? devi cercare l'alimentatore prima di cercare l'alimentatore prima di cercare il case no l'alimentatore al di là del case lo puoi comprare il consiglio per un tipo di scheda madre di non comprare un alimentatore che sia al di sotto degli 850 watt 850 watt eh certo perchè con quella scheda madre con guarda che bestione ah ora fatti quindi senso teoreo in dulce il signor mckay ci ha regalato un sistema più economico del mercato date la necessità del forte rapporto spoglio in due settimane se la mucca ah si hai capito è necessario un sistema di fittaggio generale di qualità superiore ragione i suoi dati che rimangono interna e nemura per più di 14 giorni questi sono tutti i problemi di esploratore attiva tira più di tutte le finestre che ha la più apertura dei muri sull'inizio di centro mondiale per un forte il prof come alimentatore minimo ci ha detto che è quello da 500 sì sì infatti questo è un alimentatore tozo perché se ci metti un alimentatore piccolino te la muochi la scheda madre ah la bucci ah certo non ha tolto il professore dove è che credino eh onde evitare i notti possibili quasi emozionamenti dipende che scheda video ci va a mettere che ci va a mettere una invidia 2070 i 500 watt non gli bastano manco per sogno capito ah poi se ci mette una 1060 già 500 watt va bene capito eh la 1060 io dipende da che componenti vai a scegliere lui vai a scegliere l'alessandro capito sì eh ah è 1060 tu c'è la 1060 500 watt per te va bene eh c'è la 500 watt infatti ti sono venuto in mente e infatti vedi tu sei perfetto come come sistema ce l'hai perfetto tu vedi a me sembra che ce l'ho scritto da qualche parte nell'info aspetta che sembra una minchiata la gente ci la gente non ci riflette ma ogni ogni componente del computer se funziona bene una con l'altra le prestazioni ne risentono capito vedi se mi laga a me mai il computer mai ah no c'è 100 watt c'è 600 watt è meglio ancora ma 500 ti bastava ah c'è la 11 600 watt e via dovrebbe andare bene con la scheda video si se ha una 1050 si 600 watt va bene come quello che ha snake in pratica qui ha una 1060 con un 600 watt c'è un'informazione l'ho appena detto c'è la perfetta è 600 watt poi l'asus h11 dme quella è k aveva scritto uguale mi sembra lui carissando si è la sessa autos 110 si è la sessa autos praticamente tu stai facendo la configurazione la azione mia eh si mi dico al tuo professore che sta facendo la configurazione di snake eh si è la mia configurazione no facci caso qua si è la tua si quella è è ho già detto questo ok ho capito si io con la 2080 ho messo un 850 watt perché ho paura che poi la scheda video non non è no non aveva abbastanza corrente capito ha capito non andavo al massimo delle prestazioni eh muori maledetto ma vuoi sei immortale 50 colpi dove la miraglia ah lo ho cercare la miraglia dentro il forte adesso sto parlando di un gioco non sto parlando di una persona reale si eh si lo ho cercare la miraglia dentro il forte oh ma quanti colpi eh 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 qua è chiusa sapete che sei delle squadre speciali ma il corpo sempre quello è è morto finalmente è mortale oh quindi ce l'avevi è qui con un nemico con un generale con un coronnello scusa va nel gioco si sto pensando si dove la miraglia qua forse è giù eh si è giù ecco c'è una volta qua Ammilaia Ti vengo a prendere Ammilaia Questa è quella donna Ammilaia donna Ma guarda è dietro Ah devo far uscire i miei amici qua Quello di Snake c'è scritto H11 di MK No non è H110 Ha sbagliato lui a scrivere Ah ho sbagliato io si Si perché non esiste l'H11 di MK È H110 MK Non esiste quella schierata che ha scritto lui Ah si come è che è Dopo la collego H110 MK H110 Ok Hai visto D invece di M Si D invece di 0 Si Che schieravate è l'H11 Si La schieravate che ha solo Snake Eh si L'ho fatta per me L'ho fatta per te Numero 9 Bolinda ecc Ok Come ho ottenuto la porta Ben Itters Quando inizio Faccio un introduttore No Ah beh capito di sbagliare a scrivere Non so quando i minchiati scrivo io Ah Ah che culo Ah io il professore Eh si Eh 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 Vedi che c'è un ragazzo che fa live Che ha la stessa L'amorazione che stiamo preparando No Sì Che do fa? Finora ti ha funzionato benino No? Hai avuto problemi con quel gioco? No No Adesso la supporta benissimo Si Oddio sono arrivati i soldati c'è la benitez ecco perché ok si mi stanno uccidendo malissimo qua c'è una missione contro aiuto ma dai li sto uccidendo a coltellate ah è morta la benitez ha preso qualcosa era su cadavere ancora queste si si sei te c'è uno con lanciafiamme che è anche a me lasciatemi stare sono di to' la miraglia benitez ma cosa come la configurazione di Paolo ecco ah no e comunque correggilo, è 110, non è 11, dico, capito? si, 110, 110 se non lo leggono, dico, non mi caccio da scritto, capito? si, 110 e 110 M non si muovono si la fine live ha scelto il collego si, ci sono piccoli errori che si commettono i bomboni mmm dove la milaia, milaia ci sono tutti come noi che lo sanno come uno sbaglio ci sono quelli che sono fredini ma che, inizialmente, non c'è tempo che prendono per il culo che scemi, capito? si vabbè che non è vabbè che nessuno l'ha letto, ti dico e vedi appunto, chi è che lo legge? chi è che la va a leggere? si e chi la vuole, ti dico la verità io non ne ho anche scritto, mi cazzo la tua cosa si, tanto li tolgo se mi li chiedo ecco penso che nessuno le va a leggere si, perché in cune live c'è scritto cioè in cune canali se ci sono scritto allora ho messo anche io così si, mi pare che pure Ciccio c'è la scritta si no, io non non l'ho scritta perché non mi interessa scrivere si, ti tolgo e faccio me nel professore OAMD dai vorrei che scritto ai video scritto ai video in video me lo chiedi? te lo dico che ardisco da un deadlap e te lo devo cambiare perchè va schifo ok quella è una cosa che devo fare in barri non è vero ardisco si troppo che non farò non mi ardisco schifo vedi non è vero non è vero possiamo dirlo proprio con me con il cuore in mano mmm non fa nientata che cavolo è questa ammigaglia prima che comprare una disc significa andare a modificare tutte le cose andare a togliere il windows da questo e mettermi in quello capito? ah è un boldello si non ci avevo fissato è un boldello tra rifare tutte le configurazioni stringla tutto eh si è vero ma quella ancora c'è questa non l'ho ancora cambiata non l'ho ancora cambiata quindi le cose non devo prendere una disc potente esterna con usb 3.0 con usb 3.0 o ne metto un interno ne metto un interno nella parte di davanti del case con tutte le luci però ci perdo come diciamo come estetico mi devo andare a togliere tutti i connettori delle luci capito? si non lo so che devo fare in base l'estetica me la vedo solo io quindi volendo eh infatti anche perché mi sono sto fatto di fare install e cancella install e cancella lo vedo? si già 10 giochi sono già 10 giochi sono tetra byte ormai 100 giga gioco sto cercando la dove la la tizia non c'è più un attimo che vedo mettete mettere l'eventola perchè? ah qua c'è una porta chiusa questa cosa entro le ventole è inutile perchè l'ha censurata? ah la ram perchè l'ha censurata? ah non lo so che cazzo c'è di eh non lo so perchè le cibi ventole boh 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 perchè c'è la stanza con il mezzo nella fase ventole? è twitch che l'ha censurata no 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 Twitch eh boh che c***o ti faccio lasciare che la le snack comunque la questo ti manda la ram bloll vabbè ha le dr4 quali hai come dg quante ne hai? eh 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 non lo so dr è così quello che hai detto te sì ma quanti gira? eh non lo so eh non mi ricordo quella ah usi legato per catturare sì 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 no ho trovato la stata no no ma è simile al mio eh è solo la scrittura che cambia ah sì il mio animatore è morto è simile ovunque al mio sai ok ah a me mettere l'evento è inutile tanto non è vero funzionale ok sì sono funzionale che ne ah le aggiungi tu sì ah è vero sì è giusto se aiutate che animo sì ma che buonezza missioni capisco una mazza la due d'auto e non mi ricordo dopo il dalle da qualche parte ma com'è molta questa vabbè lasciamo perdere ammazziamo tutti ah è trovata la benitez no è qua dentro poi si è chiusa la porta ok c'è un attimo che mi divano i nemici ai figati mi sa che muoio sono muovendo sono morto ah meno ma che ciò di cure fuoco anche io che non ci capito niente troppi nemici ci sono qua la porta non si apre spalato ah c'è la luna ok eccoci cosa che ha detto alessandro non esco a legge che c'è troppo casino qua eh si finisco la guella qua ah ok ok ah devo sparare con questo ho capito ho capito con cosa devo sparare come si spara ah c'è pure scritto mi faccio dire ok una volta che hai distrutto con quel cannone poi entra adesso puoi entrare in base ah come si può uscire da qua ah ok non lo so questo ho fatto fatto non tolto il tasto io con la E perché sto usando la tastiera capito non so di quel pad ma ecco l'ha chiuso incazzetto nel calametto non basta ci sono i cannoni ah tutti insieme non sparare ok vai col cannone me lo dicono loro quanto sparare si alessandro ora lo leggo mandalo che finisco qui una cosa e lo leggo levati mi ping tu non puoi immaginare i cagazzi mi sto prendendo oggi eh peccato che non stanno funzionando funzionando l'ubisop ma cosa che spara se nemmo divertiti ah difendi il cannone ok ok ah adesso ho capito ah adesso do difendere i cannoni dagli amici eh posso fare qualcosa per aiutare con questo Dove è andato? Devi prendere tutti i cannoni in grado Uccidemi tutti Si Mi bella tosta In lì dentro l'hai uccisa? No Eh dentro la Va bene dopo appena finisci di uccidere a quelli Tanto già l'hai aperta la porta Se sei dentro il cannone non dovresti avere grossi problemi eh? Si Si sto dentro qua Grazie Oh 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 Si Ah ho sentito PING PING Sono quasi ti hanno visto Sono solo chiamati rinforzi Ah Si è andato Ah è andato in Tid e Discord Ah ok E' da capito andare Disco da ragazzi No Disco da è buono però Ho tolto il palco Ooooooh Ah è finito Mi riusci di riuscire Mi ha finito di hackerare Ah ripara Gli dai un'altra cannonata Edi un colpo di cannone dovrebbe bastare Gli dai un'altra cannonata alla porta dove c'è lei Si Si mi fai in tale però Ma c'è scritto esci poi Esco di un'altra cannonata Non è Non è Non è Un'altra cannonata Si Si Vai la prenda C*** Salve 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 Eschi va eschi va eschi va eschi va Vai solo non mi va Eschi va eschi va eschi va Ah Ah Uh, chi è? Ah, coi no! No, sono morto! Cosa è successo? Ah, ok. Niente. Ah, capito. Eh, non... Sì, scudo, te lo dico io. Sì. Te lo dico io. Sì. Non mi accetta, non me lo fa consentire. Il suo, come si chiama? Il tuo... Il mio bot. Il tuo bot, bravo. Eh, da telefono posso modificare. Dove accendere da... No, perché è stato aggiunto ai termini che tu hai bloccato, capito? Ah, che me l'ha aggiunto? Ah, me l'ha aggiunto qualche modellatore. Coglio! Perchè non... Io non c'ho mai... Eu non pensavo a chi ha dato a chi ha lasciato in qui! Ah. Non, non ho letto io. Anche se non lo scerano ho letto. Ah? ciao 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 io gli spiro la testa ciao 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 mmm calina una ragazza calina viva la morale, buon felice ah che vio don, si si mamma, same mistakes, new faces tu solo es triste, se la revolución se vio y se vio y todo tu tienes es una monta disfrute un trophy bonitas es un estés salud cuida con los peques salud victoria, me pensaba que era tigre entonces yo voy a ser tigre, no me voy a ser C'erò mezz'ora soprattutto con le cose... Ah, che? Ah, niente. Viva la morale! Sì, viva la morale! Viva la morale! Mezz'ora, che? Allora... Mmh... Push! Vabbè... Buon ol' shake down, l'amore! C'erò? Chi de f*** lo importa?! L'admirale era una larga. Ella non aveva bisogno di trasmettere con lo que la terrorista fa. Vrei voler a considerare expandir la vostra operazione. Sei una legenda? Non ho visto la legenda. No! Vado a vista la legenda. Apriamla! Vado, vado. La legenda c'è. A cover the throne. Aferno di acafio. Non è porre così santo il bambino. Si tonti. Se voleva avere qualcuno che cuida di voi. Ha visto? Ha! 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 anche tale fa il padre e tale figlio si sta avviando che prima era più era diciamo che in quella fase in cui sta cambiando il karate gli sta diventando come quello di suo padre lo sta educando bene alla violenza piano 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 porca miseria vado a prendermi vado a farmi un caffè vado torno subito ok buon caffè se non vado a cucinare in cucina arrivo subito subito lascio il lor che qua il computer si polizione completata al pione parla con l'elena ok ok non chiuso il covo qua chiuso siamo fuori a fare bisboccia non sappiamo quanto torniamo e andate divertirvi festeggiate benite se morta ok ok clara yara is a little more free today the admiral is dead that is a huge blow to the military and those going to be out for revenge watch is a huge is a huge is 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 Ah, posso entrare? Beh, andiamo da qua. Ah, il ora. Tututum. 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 Ah, andate in bagno. Eh, sì, andate in bagno, sì. Andate a prendere caffè, Franco. Non vi ha tutto il file, ma metto l'attesa appena sei posto. Il file lo trovi sul media. Ah, posso prendere in mezzo. Benissimo. Andiamo lì. Vale con le hiena. Eccomi. 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 Ah, guiderai. Meno male, ma. Un po' di rilassamento. Andiamo, andiamo. Qui sta, no? E che è successo? Ah, ok. E' andato il cursore là sopra. Adio, adio, adio. Mi sono incastato. Vadi, vadi. Ma i capelli, come fanno? Lo scopini. Eh, andate a fare pochare. E' per la maggio cosa danny. Come una, non? E' andate a farmi partire, per il aiuto di Aara? C***o. E' andate a me là. E' di calma, non? E' di calma, non? Eh, muove il piede. E' andate. E' andate. E' andate a Excellent. E' andate. E' andate? Ok, siamo arrivati Mi conta Giolone, sto aspettando a casa Tejeda Tejeda Qua chi c'è? C'è un punto schematico qua Ah è qua Cos'è? Ah zona di pesca Ok Ah ma sono scappato Ah ti via senza di me Aspettatemi Me l'ho lasciato qua Do' E guardate Angiunto la festa Su l'isola La linea Andiamo la festa All'isola? All'isola Eccomi Ce l'ho arrivato Oh no, non te il tuo Il conto ayer Perché sono nato di qua? Vabbè Ah, è lì, lalala Ah, devo parlare con quello Ah, è sacro Calvi Stavo a parlare mentre stessi giocando i giocatori Ehi, stai provando, che funziona Che sei? La f***a UN? Proviamo a dare Dani un troppo per provare Cosa è successo? Questo sarà il parto, Yelena? O Vicky, Yelena? F***a! Hai la grilla? Tu sai come mi sento per usare quella cosa Animali hanno i cervelli anche Tu sai che dolfini possono usare ferie C***e, c'era una bella seconda Ho scoperto che eri vegana Puoi mostrare a Dani dove è la grilla? Si, si, tu monstri Dani, prendi quello Te mostrerò dove trovare la carne o la carne O anche i cibo di ricerca O anche i cibo di ricerca Per il bene della tua mente Ok, il cibo è completato Dici Ottieni il cibo per la griglia Yelena, saranno le trovarne ah qua ci vuole Antonino che gira i dischi ah sono andato sul fuoco e sono passato ah dopo la si si vengo vengo tutto 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 ah 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 Sono un dronco divertente, ok? Ma se lo so, come un arroz con puer cojon ronco una oltre volte, potrei perdere la mia città, un po' ricordo di più tardi. Ha, beh, tu hai stato scoperto. Quindi, sono piaciuto. Il mio grande ragazzo Gerardo vevemo persone prendendo a me, e si, 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 prende la grilla con i sollevani, sulleve la carne ancora cucina, e la cucinale allo al laleo! Se chorta in l'oceano! I mean, che tutti fosse omitrati. Gerardo è scoperto, un grande grande ragazzo. Se sempre aveva la mia occhita quando n'altro aveva, ha morto circa una settimana dopo. Mi soeco, sapevole. Mi soapsa, Auron, ma sono sicuro che è capace che abbiamo tirato Benitez. erardo wishes he was happy spari for sure he'd always say we're not here to feel like shit we're here to erase the past and bring to our future and to hear our veggies right exactly the grills over there watch out for the sharks no it's under the water cazzo si so hmm hmm aspetta faccio un po di pulizia ma non ammazzare qualcuno forse guardalo una canzone bonita l'ultimo corpo no puoi andare oh esci esci chi è che fischia indovino sono tornato ah si te ah il squalo mi picchia mi picchia lo squalo mi metto in attesa live che appena ci sei mi sposto si sono arrivato adesso che una moca un attimo ti metto in live io devo farmi una moca o o e né cibo per la grigliata cibo 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 orta di già orta di bambino orta di bambino orta di cb3 3 si è stato benissimo l'ho cercato a prendere i guardi ma si trovavano un milan si la piscaria che si serve per la scatabia però orta di pescaria Sì, lo abbiamo. Hai scelto il horror per il tuo amico? Lo ho scelto. Ho avuto un plan per il prossimo giorno. L'abbiamo scelto il processo di intercorso. Ma Benitez ha eseguitato tutti i giocatori come punizione per il Honron di essere liberato. Lei non lo sa. Gerardo fu fuori nel fortale. Vinga. Ho avuto questa scelta ogni giorno. E dopo questo? Ho dovuto farlo di nuovo. Questa scelta di odore. 32 gradi fredda. È il giro? È solo... Perché sai? Solo una persona responsabile per la morte di Gerardo. Nats Castillo. Grazie. Perfetto. In la Revoluzione siamo tutti giusti. Solo alcuni un po' più di altri. Credo che la libertà potrebbe avere un po' più. C'è qualcosa? Va bene così. La disca è quella da 6 Gb per secondo. Compatibile con l'ingresso SATA. Che c'è qua dentro? Il case con il master. No, io mio questo invece è il must game. Non va bene. Vabbè. Ha messo il case che hai tu, Paolo, anche? Tu hai un cool master? Mi pare che hai detto. Sì. È perfetto, è perfetto, compa. Va bene così. È benissimo così. Hai un cool master con la stessa configurazione, in pratica. Sì. Va bene quel case. È perfetto, un bar. Ha fatto un compito simile al tuo? Sì, ha fatto simile al mio, sì. Glielo ha chiesto il suo professore. La griglia è un buon start. Prendete il sito e troviamo qualche cibo, per cui possiamo cuocere. Ok, cerchiamo il cibo. Cibo con la grigliata, no? Devi ammazzare gli animali prendi. Eh, sì, quel che ho pensato. È legabile, li devi liberare e li devi catturare. Un po' guadini. Vabbè. È così, ha. È così, ha. È così la missione. È così la missione. Li devi liberare e catturare. Ah, qua ci sono le calotte. Ma scusa, sei di polto di calotte? Le calotte sono per la ragazza... Ho bisogno di prendere un'altra. Ah, la ragazza, sì, ho capito. Il vegano. Ah, questa è la tomba, ok? Ho capito. Devi liberare gli animali. Sì, stavo guardando in giro. Liberiamo gli animali. Ma altrimenti non ne trovi. Ah, ah. Adesso ammazzali, non li fai scappare. Eh, li ho fatti scappare. Vabbè. Aspetta, se lo... Aspetta, aspetta. Sfarichi mentre sono dentro. Eh. Ci sono già cotti. Eh, 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 eh. L'87%, visto? Eh. Novantaquattro per cento. Novantaquattro per cento. Te ne manca uno solo la verdura. La verdura, sì. Aspetta che qua. Eh sì, perché è a pin di fuoco. Quindi le carote è finita. Sì. Credo, non vedo ci vuole qualche altra animale. Attenti, ti pigli un bescio. Eh. Eh. Aspetta che qua c'è il fuoco. Aspetta che si spegne. Ah, qua c'è una carota. Quattro. Finito. Finito. Dunque, mi sa tanto che della mia classe sarà uno dei pochi che farà questo compito. Gli altri se ne sbattono quando il professore parla. Ah, come mai? Sbagliato. Perché vedi che noi, noi siamo autodidatti. Eh. Abbiamo dovuto imparare a fare queste cose. Se voi avete la possibilità di imparare la scuola. Sì. È un errore non imparare. Come è per mandarci i computer. Per saperli assemblare. Abbiamo dovuto fare gli autodidatti. Perché avere la possibilità di fare la scuola non è buono. Sì, eh, già. Se fa fiesta, fiesta. Hai lola. Hai. C'è come sputare, è sputare nella possibilità di avere conoscenze in Bari. Sì. C'è affezionato a your nonna, vero? Eh? A your nonna, la ragazza. Sì. Sì. Uno, due, tre. Andiamo. Ah, dai, accendi i fuochi. Ah, bella sta festa. Ti è piacendo. FIRE FOX! Ma che belli! Senti come dire! E tu chi è? Ah, eh. Questo è incredibile! Eh? 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 Forse l'ho stampato troppo piccolo, F. E' appena specato un foglio. Eh? 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 Adesso ti chiamano, non ti preoccupare. Adesso ti chiamano, non ti preoccupare. Ah! Hola! Playtime's over, Danny! Oh, shit! Walt! Guarda che c'è un foglio. Hey, Danny! Te la sei spassata tanto da finire il KO. Non ce la sentivano svegliati. Quindi ecco una nota per farti sapere che siamo sulla tela ferma a presto. Guarda il telefono. Sì, ho visto, ho visto. Oh, che cavolo. E va che cavolo. E va che cavolo. Gilberto's Chameleon's Corrora, abbiamo potuto pulire tutto il giro. Eh? Eh, che cavolo! Eh? Eh? Eh, che cavolo! Eh? hai capito quando esce il matix me lo compro, è bello il gioco eh, ne ho provato la demo oggi si vabbè ma la PS5 è un cazzo di moto, guarda come... si con il processore grafico c'è un mostro bella la grafica vero? si si è fluido? si è fluido, si si vabbè tu c'è la PS5 che è un mostro e credo che il pc sarebbe quello, come un pc montato con la 380 PS5, paragonato si è paragonato alla 3080 ah ok non è la 3080 ma è paragonato adesso si è una bella, è un bel piaccio vero nulla da dire sulla playstation, anche la xbox non ti credo perchè da meno anche la xbox S FK ah ok va in bagno, si è un mostro quella caccia di moto, no? si sono uguali praticamente la xbox le console sono quasi uguali hanno fatto due mostre si su la xbox è la sim deck e buh che cosa ci ha messo dentro di schede grafica? buh Nessuno ce l'ha di quelli che conosco, quindi non saprei che dire Né, perché è ancora uscire, è uscire a febbraio Ah, ok Francesco Mora che l'ha comprata Spero che già si poteva preordinare Sì, si poteva preordinarla, sì Tempo zero, però sono finiti Ce l'ha preso? Sì, l'ha preordinata, l'ha fatta in tempo Poi ordinarla, sì L'ha fatta in tempo, appunto, perché preordinata è durata un paio d'ore Sì In un paio d'ore già erano finiti i preorder Sì Che poi credo sia un pochettino strana come cosa Perché non è che Non è che ancora si sa se è valido oppure no Eh, sì Eppure si sono fidati tutti In un'ora è finito il preorder Sì E lui mi ci fa la beta test, praticamente, Francesco Mora Mi ha detto, mi fai la beta test, se va bene Simone me la prendo Ecco Un po' come per noi perché l'abbiamo fatto da beta test per questo gioco Sì, ecco Quante volte che mi hanno mandato signorazioni? Sì Quando è uscito Noi abbiamo finito il gioco e adesso il gioco funziona bene, hai capito? Sì, sì Noi se vuoi dire che abbiamo finito quasi Almeno io ho quasi finito il 98% Eh io, quanto sono a te, ha dato, aspetta come si dice Tu ancora devi perdere un paio di compagni Quindi ancora sei abbastanza indietro Ok Aspetta a me, ancora un paio di puntate indietro rispetto a me Sì Eh, ma tu non lo stai giocando stessa? Eh sì Non lo stai giocando, non lo stai giocando, non lo stai giocando Oh Oh Scrivati i soldati La missione è brutta, ma Ah, ok La missione è brutta Ma basta seguire la folla Ah Madonna Eh, perché c'è... Ho aperto il palacaduto, però sei andato addosso la pala busta lì Eh, lol No, hai sbagliato, invece di avere il palacaduto hai aperto la tuta l'area Ah, ok E quello ti sei schiandato Sì A volte capito Ah, perché la tuta l'area è come si sono accorto, vabbè Sì Eccoti Eh, hai visto che brutta morte l'ho fatto, Alessandro Quando sei così in basso devi aprire il palacaduto, se ti apri la tuta larea sei subito morto Sì Non hai il tempo che metti qui Ah, beh, tanto Ti... ti recragnate, dire Cojone Ah, sto vicino a questa E' la mia amica Spallo di là loro Sì Sì Eh, non vedo mai i nemici io Ma scusa, non posso scendere Ah Puoi scendere? Come si è parlato, invece di usare il... Sì Ma la tutta l'area scende Ah, c'è anche lo zoom Ah, ecco lì Non c'è come, è quel meraviglio Reinforzamenti, scendiamo dalla strada principale Al Cotimor Spalla, spalla, spalla Ah, c'è scher... Ah, c'è rotto Sì, ma perché hai... a questa altezza ma... Ah, ecco Ecco, scendo qua che è più sicuro Oh Sì, esatto, esatto Ah, ecco l'ho sbagliato Ehm 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 Mi su metto Oh, a catena Ma no, conna che stagge Che che mi spalla? Ah, tu sei? Stanno venendo verso di me Stanno venendo verso di me Stanno venendo verso di me Due tiche Boh Ehm 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 A parti? Dove hai carammato? Dove hai carammato? Dove hai carammato? Dove hai carammato? Difendi l'hotel Ah, là lo vedo Aspetta Scusate me Eh, non mandava di cosa? Morto? Ehm 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 Che cavolo Ehm 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 Ma fai L'e Ding Ehm 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 adesso di qua si 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 sono capito capito far faro si è da lo cazzo ma in un livello non lancia fiamme casalingo ma è muori ammazzato si si già nel cura ecco e con la cia fiamme di che che volo che ha fatto quello hai visto un sniper e dai faccio scendo con gli armi scendo adesso si scendi scendi io vedo la macchia l'ossa sulla mappa ah ecco no ho finito l'immunizione ah mi son fatto male eh ho finito l'immunizione non mi count morì ma dove hai voluto aspetta almeno che mi dà una mano non l'hai messa non l'hai messa ah si si arriva arriva adesso visqui? chi ha detto vuole il visqui? chissà che cosa l'ha detto vuole il puglietto alla piscina aspetta che questa sta muonendo vuole tornare alla piscina ma ma sono qua piscina è questa la piscina oh oh si questo mi dove è il nemico ma come scappa qua? oh c'è c'è una pantera all'esterno eh 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 si aspetta si si è boccato aspetta fa così quanto carica vabbè è dall'inizio del gioco dovresti riavviare il gioco però si che dura frega si c'è questo problema è dall'inizio dall'inizio ah ha capito si che te frega si ha caricato male all'inizio un bar si ha capito praticamente non l'hai ripreso più ah l'elicotto ce n'è uno giù giù ti passa lì un po' più a destra un po' più a destra 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 ah eccolo ah a destra vabbè c'è un altro di corto c'è un altro di corto sento dove ah eccolo eh quanto ci vuole ah c'è un altro di corto l'arrivo sento eh ah dei morti si dei cadavoli c'è un altro di corto c'è un altro di corto ciao a di santo pregando gli hanno avvelenati gli hanno sparato delle bombe al vereno ah cazzo ecco questa è la scena più brutta del gioco al tigre cazzo che non è finito ce n'è un altro allora tigre è morto ah questa 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 missione mi ha sta sciocato si brutta ah ando a scappare adesso sei fuggico eh eh sono rimasto scioccato chi dove impigliati ecco dove cavolo scappo ah ed è qua eh è andata all'altra parte però cazzo vabbè cazzo 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 dove ancora ah riesco a trovare il violone ok che burtello Ah, sono 7-10, allora faccio le missioni con le secondarie. Se no, non è ancora finita. Ah, c'è il funerale, ok. Ah, bene, non lo sarei detto di così. Ho venuto a dire goodbye a un vecchio amico. L'anno scorso, nel 67, non avevamo morto. La morta era gloria. E' stato stupido. Castillo e McKay hanno scoperto la linea oggi. Noi più, moriranno e nessuno è sicuro. Guido, con questa missione ho staccato il gioco, ma non volevo giocare più. E' stato il leader del LSD. O' il fitto della rivoluzione. Qu'è l'antibuto? Dobbiamo stoppare Castillo e il Yankee. Siamo? Voi parecchio che potessi usare un po' di fortuna. E' come la scena di... 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 Di l'Astor House. Non so se hai giocato a te. Il primo. Madonna. Madonna. Perchè? Si. Ah questo l'ho già capito qua. Ieri sera c'era quando giocato questo gioco? Ieri... Ah si che lo! Sì, ho messo la cosa, la lista dalla chat davanti Sì, non è finito, non è finito poi Ah, ok Non ti dico chi, ma ieri è stata un'altra persona importante per il gioco Ok, ma non C'è un'altra persona di personaggio visuale è morta ieri Ah, poi la corrosa, con lei dopo là Non te lo dico per lo spoiler Sì Ha fatto bene la staccata, perché muore la persona Ho capito, sì Ok Ah, no, questa non voglio fare adesso Se faccio rifiuta, succede niente Ah, vero Ah, sì, giusto Poi devi tornare da lei, ti devi fare tutta la strada Ah, vero, sì, giusto Poi c'è che nel diario le altre missioni, questa la fai dopo Sì Mi sa, a vero Fammi rifiuta, ma dato Ah, disattivi, eh, mi do l'occhiata, capo mi do la ragione Ma questa è lunga, mi sa Sì, questa è lunga Così non c'è bisogno che te la vieni a cercare Quando è poi la timi nel diario Sì Maroon Ah, c'è un giacquaio Guarda fare quelle di Lola con le secco dei piccolini dei banditos Ecco Banditos? Guarda vedere i banditos Sì, sì, sì Ah, dovresti avere un nuovo capo dei banditi dopo questa missione, se non ricordo male Ah Dovresti avere un capo dei banditi su in più Ah, dovresti avere uno in più Sì Eh, vado a vedere, sì Dunque, anche ieri sera è stata una cosa Una cosa straziante Sì Ok Ora Hai visto che ha messo nuove missioni qua, guarda Sì, sì, ne hanno messo e non Visto queste Con l'aggiornamento, sì, ho visto qui Però qua ne mancano due Sì Che non hanno messo Sono in arrivo Sì Le stanno facendo, stanno lavorando Ah, allora, faccio questo, va E intanto manca cinque minuti, ma Vedi che è un capo in più Ma bene, non ci ho fatto caso, aspetta Ah, vizio la secca capo Ah, questo Un altro capo che non lo stai usando E lui Sì, Alfredo Massimo Butta fuori Queste missioni ti danno un capo in più Ma non è un capo in più Ma non è un capo in più, ma è qua, sono già O più o no Se sei pieno di materiale, no Eh Ma alla fine, o le fai o non le fai Sì Non ti cambia, cranky Ok Io non sono pieno di materiale C'è il pieno, quindi non le faccio più Sì, ok E poi lì sono pieno Per me è una perdita di tempo Ho le armi potenziate C'è una perdita di tempo Sono andando avanti con la storia, sincero Ok E ormai faccio quel che sono in sospeso, ma Sì, sì, fallo, fallo E questa Sì, sempre Magari questo che ti dà la farfalla Che è una cosa da pesca Ah, sì Allora magari questa sì C'è un altro fermaglino Ma sono i fermagli, non sono oggetti Cioè, quelli di bellezza sono Sì, è estetica Sì Sì Magari questa palla, capito Sì C'è un'altra che sono tre proiettili Che forse già l'hai fatta Sì, mi sa che l'ho già fatta Ah, sta andando bene questa Ah, vabbè, le vinto Le vinto, perché come fa se ne vincevi due Ah Le vinto il fermaglio Ha capito Gigi Sì, aspetta tutte e quattro le ho fatto Ah, sì Ah, mi dà tutto il coso, benissimo Il fermaglietto Se lo vuoi attaccare alla canna da pesca Invece di metterci un fermaglio Che si proiettili E poi ci metti direttamente la farfalla Ah, bello Questo che si è Ah, mi dà i cose I soldati Sì Vabbè, ne hai soldati e mai finire Sì Se questo che voglio Già questa l'hai vinta Anche se ne perdi una l'hai già vinta Ah, ho capito come funge Deve vincere o la metà o poco più della metà Sì Se sono tre devi vincere almeno tutto Ah, boh Non mi conviene neanche mandarlo via mai Cioè dico fare altre missioni Non conviene più Eh no, perché sei pieno di materiale Ti riempie come ho fatto io Io sono stra pieno Sono arrivato a Mazzio Eh, il ciondolo È il ciondolino per la canna da pesca Sì Dove che si vede È qua È qua non so perché si è bugato tutto Ah, devo togliere la cosa Aspetta Cioè con l'antigas Eh sì Hai fatto la missione Sì La missione di drogati Avvelenavano Sì Sì Quello è il cultivo dove è che è È spesante Ma dobbiamo cercare Questa è bella Questa qui Torni indietro No, quella lì Quella con la gioca e cravatta La mira Hai presente che se ne ha pericacoccio Quella del mitra Sì Con questa qui il mitra la tira dritto No, con questo Il mitra va sempre dritto a sparare Ah, questa è per l'energia Ah, questa dici Sì, sì Quella che è Ah, è qua quello Ok Ok Io metto questa che mi piace quella a furtivo Ecco Però fai R Fai R e te la metto completa Sì No, però tu usi il pad Sì Fai il quadrato Sì, non so perché con l'aggelamento ho fatto tutte queste cose qua Che ce la voglio Boh, sarà impatto Con l'aggelamento, no? Mi sono apparsi tutte Sì, perché a me sono apparsi con le cose che mi chiamano io Come se non le avessimo mai usate Eh sì E' da fastidio Però a me Ah, poi mi scoccia Chi è questa? L'osa, me, pe, corpette Fa vedere È come se li devi riguardare tutti dal capo E ti metti a guardare uno Eh, per uno Mi scoccia Negli eserci sta avvicinando Ah, questa è una La tizia Poi me si sta svolta Cosa mi ha dato? Ah, l'estetica Ok Ah, il colore da mezzo Quale è meglio l'osso Blu No, a me questa macchina piace Bianca e nera Questa? Ah, così Sì, così è bella No, quella di sotto Così Eh Più carina così Poi ci ho messo il coso qua Eh, di Qua si chiama? Aspetta Quello gioco La Rabbits Ehm Quello di Super Mario Mario Rabbits Ecco Venuto in mente Eh, chi Kipi Rabbits Ah, cipi Sì, si è scritto Ah, eh Collezione Cos'è che è? Ah, questi Pagini di Anu Ah, i Galli Vedi che mi mancano Mi sa che Come te A me quattro ne mancano Eh Eh, chi A me Uno, due, tre Gli stessi miei ti mancano Il secondo Gli stessi che mancano a me ti mancano Ah, che Il secondo Il sesto L'ultimo della prima fila E il primo della seconda Ah, gli stessi ci mancano Gli stessi ti mancano, sì Eh, che cavolo Eh, non li trovo Non so dove cacchio Sono imbuttosati Ah, poi le canzoni qua Mi ne mancano un sacco Le canzoni l'ho completato Ah Le statue le ho completato Mi mancano quattro Galli E Ah, le statue sono queste Sì, mi mancano quattro Galli E diciassette mappe Ah E dove sono le storie queste? Boh Le trovi nascoste nella Nella mano Trovi dei foglietti Se tu leggi tutti i foglietti Ci sono anche le storie Ah, capito Ah, sì Eh, invece quelli lì Vedi Le mappe gipto grafate Sono quelle che ti aprono le ceste Particolari Il primo di tutti Ah, sì Sono solo tredici di quelli Ecco per te Mi sa che l'ho aperto le stesse Ma non per te Non so quali Non so dove sono gli altri Sì E li ho cercati Ah Li ho cercati dappertutto Non li trovo Non trovo Non trovo E' come su Google Che ti lo dicono Sono quei disegnini Se vuoi disegnini della chitarra Sì Sono quei cosi lì Sì Ne ho solo tredici anch'io Non vorrei che invece mancano Che ancora li stanno aggiornando Che fatto che noi abbiamo preso L'abbiamo preso sul day one Ah, può essere sì Che li stanno aggiornando Mi darebbe fastidio Perché ho quasi finito il gioco Eh sì È stato con Massoni È stato con Massoni